Sulla vittoria in Emilia noi confidiamo molto, crediamo che si possa vincere. La Calabria, che è un'altra regione importantissima, viene data per scontata, e va a seguire tutta una serie di vittorie che, sommando gli elettori, hanno portato il centrodestra in Italia ad essere ampia maggioranza. Di questo bisognerebbe prendere atto. E lo dico perché lo vorrei collegare al servizio precedente, quello dei numeri. Siamo trepidanti, ci stanno 31 che sono usciti, non si sa bene che rappresentano ma condizionano la vita della nazione. Chi governa sono due partiti che in campagna elettorale hanno detto cose divergenti, programmi divergenti, proposte politiche divergenti, governano insieme, ma litigano su tutto. Stanno cercando una legge elettorale che permetterà a questa nazione di tornare indietro esattamente al clima che stiamo vivendo in questi giorni. Proporzionale puro. Che significa? In campagna elettorale diciamo cose diverse. Ci insultiamo, ci attacchiamo, diciamo che rappresenteremo l'alternativa, poi ci mettiamo nelle stanze chiuse e ci dividiamo le poltrone, troviamo le ragioni per stare insieme che è preservare il potere. Oggi abbiamo la fotografia di quello a cui vogliono condannare l'Italia del futuro con una legge elettorale sbagliata perché contraria al principio che i cittadini hanno sostenuto in tutte le elezioni che è quello di voler sapere il giorno che votano chi li governerà. Questo è quello che noi vorremmo nella prossima legge elettorale, non sapere chi vince o chi perde e lo decide il popolo, ma sapere che il popolo il giorno che vota sceglie il programma e chi sta al governo della nazione fa quello che il popolo gli ha chiesto, non cose diametralmente opposte che oggi vediamo invece fare dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico costretti al compromesso, ricattati da formazioni politiche che nei sondaggi, non li cito quelli dell'Emilia ma cito quelli nazionali, vedono l'irrilevanza del Movimento di Renzi piuttosto che del gruppo misto che perde finito, o l'EU, un partito che uno va su Wikipedia, l'EU, partito estinto, però ha un ministro, quello della sanità, a livello nazionale. Siamo al paradosso, noi vogliamo la legge elettorale che permette ai cittadini di scegliere. Allora, Lolo Brigida introduce il tema della legge elettorale.